Qualche puntata fa, per la precisione della numero 202, mi lamentavo che il software di oggi è troppo poco ottimizzato e che se fosse fatto meglio la batteria dei nostri telefoni durerebbe parecchio di più. Potrebbe essere vero, mi hanno detto, ma non è tutto così facile come sembra. Io sono Francesco Tucci, mi occupo di tecnologia da prima del Millennium Bug, dell'Euro e del grande blackout del 2003. Sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela, in puntate brevi e facili, alla portata di tutti, con questo podcast Pillole di Bit da novembre del 2015. Dopo la puntata 202, Alex raccoglia, la voce di Tecno Pills, il suo podcast, anzi il suo flusso di coscienza digitale, come ama definirsi, è ovviamente un mio grande amico, mi ha detto, guarda, da sviluppatore ti mando un vocale e ti racconto due o tre cosette su come funziona lo sviluppo al giorno d'oggi. Mi ha mandato il vocale che vi metto qui di seguito, sono un po' meno di 18 minuti, che mi invito ad ascoltare molto attentamente, perché, a mio parere, è il racconto definitivo, preciso e reso alla portata di chiunque, anche di chi non ha mai scritto un Hello World, il programma di base che si fa quando si inizia a sviluppare il primo programma in qualunque linguaggio, su come funziona oggi la programmazione. A voi, Alex raccoglia. Ciao Francesco e ciao a tutti i tuoi ascoltatori, io sono Alex raccoglia e ho appena terminato di ascoltare la puntata, ok, per me è l'ultima che è uscita, però non mi ricordo effettivamente il numero, la puntata in cui parli dell'ottimizzazione delle risorse, del fatto che se ne sprecano tantissime, che i programmi non sono più ottimizzati, eccetera, eccetera, eccetera. Io volevo mettere a corrente te e i tuoi ascoltatori, dal mio punto di vista, io sono uno sviluppatore pigro e di conseguenza voglio raccontare la mia esperienza sul fatto che le applicazioni sono poco ottimizzate oggigiorno, e lo dico dal basso del mio aver scritto alcune applicazioni che sono particolarmente onerose dal punto di vista delle risorse che vengono utilizzate, come ben sai. Ma vorrei fare un pochettino un paio di passi indietro, tu hai ovviamente preso due estremi molto distanti tra loro dell'informatica, che sono il tuo primo computer che era stato un Commodore Plus 4 e un telefono odierno, che hanno tante differenze. Per farti capire adesso, non mi ricordo bene le specifiche del Plus 4, credo che sia per certi versi simile, forse leggermente superiore al Commodore 64, però facciamo finta di parlare del Commodore 64, che pur non avendolo mai avuto lo conosco abbastanza bene. Ecco, il C64 aveva 64k di RAM, tutto compreso, cioè nel senso memoria, memoria video, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, ci ricordiamo benissimo una vagonata di giochi meravigliosi, applicazioni che sfruttavano ogni singolo centesimo di pixel della macchina per produrre delle cose molto belle, molto appaganti, molto divertenti e anche spettacolari. Ecco, i 64k di quella macchina oggi non sono nemmeno sufficienti per disegnare l'icona di una qualsiasi delle app che trovi sul tuo telefono. L'icona, eh? Non l'app, l'icona. Mentre l'intero gioco stava, eh, stava in quei 64k. L'ordine di grandezza è cambiato tanto negli ultimi 35 anni, che stiamo parlando non tanto di un ordine o due ordini di grandezza, ma di quattro ordini di grandezza. Cioè, se un app, un gioco allora occupava 64k, oggi non è raro che occupi più di 640 mega. Anzi, secondo me, possiamo spingerti anche oltre. Anzi, i giochi sulla PlayStation, secondo me, arrivano tranquillamente ai 64 giga. Per cui stiamo parlando di altri due ordini di grandezza. È tanta roba, è tantissima. E l'informatica è cambiata a vari livelli. E come tu ben sai, ma io lo so che non ti insegno niente, ti faccio solo, ti do solo il mio punto di vista, l'informatica è cambiata ed è diventata qualcosa di, che dal passaggio al personale è diventata un'industria ingegnerizzata. Nel bene e nel male. Allora, era possibile pensare che un gioco potesse venire sviluppato da una, due, tre, quattro persone. Oggi, il gioco medio, quello con tante A, essenzialmente ha un esercito di migliaia di persone che ci lavorano, che producono un sacco di cose e ci fanno un sacco di cose. I computer sono molto diversi da allora. Il Commodore 64, per dirti, ma anche il Plus 4, non è che avessero fondamentalmente un sistema operativo. Magari avevano qualcosa di simile, però non era proprio un sistema operativo. I computer di oggi fanno una vagonata di robe. E la maggior parte delle robe che fanno, le fanno in background. E il codice è esploso. Perché sì, i computer devono fare dei calcoli, devono fare delle operazioni, produrre dati a partire da altri dati e presentarli all'utente, ma lo fanno con un'interfaccia utente molto più ricca, molto più complessa, e nel background devono comunicare in rete, avere una gestione del file system, preoccuparsi della concorrenza, cioè dell'elaborazione, in cui più processi portano avanti ognuno una parte. E poi c'è tutta la questione della sicurezza. Parlavamo sempre dell'immagine, l'icona PNG, perché sono le PNG. L'icona PNG dell'applicazione che usi tu sul tuo telefono viene interpretata da un interprete PNG che prende dei dati grezzi e li mostra a video, facendo mostrare un'immagine. Ma oltre al codice per visualizzare questa immagine c'è tantissimo altro codice che fa sì che se uno in maniera molto subida costruisce una PNG artefatta, questi dati che sono ovviamente non una PNG, ma dei dati molto artefatti, non vadano ad intaccare nella sicurezza del sistema, cioè non creino delle falle. Questo per le PNG, per le JPEG, per le TIF, per i file vettoriali, per tutti i file video. Insomma, diciamo che tutta la componente di sicurezza aggiunge veramente un overhead che secondo me è un ordine di grandezza di rottura di palle. Cioè, se tu scarichi una pagina web, gran parte dell'elaborazione se ne va probabilmente per far sì che del codice malevolo non sfrutti questa pagina web, ma per fare altro. E questa cosa può tra l'altro continuare a inseguirsi, perché c'è sempre una falla da scoprire e ci sono sempre falle da toppare. E di questo ne sai meglio di me, perché sei molto più bravo di me nella sicurezza. Questo per dire che i computer di oggi fanno tantissime cose, la maggior parte delle quali le fanno in maniera invisibile all'utente. L'utente vede una lista di cose, una lista di immagini, vede una pagina web, però c'è tutta la componente di ok, ti faccio una richiesta di questa pagina web, dov'è che si trova? Su questo sito. Vediamo se questo sito ha il certificato per essere sicuri che non sia malevolo. vediamo che nessuno ci stia ascoltando, vediamo il codice che arriva, vediamo di qua, eccetera, eccetera, eccetera. Schivere codice è diventato una grossa complessità. Se potevamo pensare che il codice per il Commodore 64 di un'applicazione, di un giochino del Commodore 64 fosse una casa, il codice di oggi, di un'applicazione più o meno complessa, è una città intera. Senza considerare codici molto più complessi, come potrebbero essere quelli dei sistemi operativi, e di applicazioni molto più ricche, come un Microsoft Word o un Photoshop. Insomma, il codice è enorme e non c'è più la possibilità di ricondurlo a una singola persona. Cioè, una singola persona non può sapere tutte le cose che fa il suo software e anche tutte le varie dipendenze. Significa che se tu scrivi un'applicazione che fa qualcosa, qualcuno deve occuparsi di una parte di questa applicazione, qualcun altro si deve occupare di un'altra parte di questa applicazione. Diciamo che ci sono alcune, decine, centinaia di sviluppatori, ognuno dei quali si occupa di mettere un pezzettino del codice. E questa cosa necessita che il codice possa essere non particolarmente ottimizzato dal punto di vista delle performance, ma ottimizzato dal punto di vista ingegneristico. Nel senso, se io sono uno sviluppatore e sto sviluppando un'interfaccia di rete per qualcosa e a un certo punto muoio, vorrei che l'azienda che mi ha assunto possa assumere qualcun altro che possa continuare il mio lavoro. Di conseguenza c'è anche tutto un overhead di documentazione e di conseguenza il codice deve essere bello, leggibile, manutenibile a discapito delle performance. Questo dal punto di vista totale, globale, mondiale. Nel senso, stiamo parlando dei massimi sistemi dove i massimi sistemi sono anche dei sistemi operativi, sono delle applicazioni enormi che fanno un sacco di cose. Adesso torniamo un pochettino nel piccolo e facciamo finta che io stia sviluppando un'applicazione. Ne ho fatte diverse. la maggior parte su computer Mac desktop, lo dico ai tuoi ascoltatori, tu lo so che mi conosci, un paio, due o tre anche per mobile. Ecco, sviluppare applicazioni mobile è una cosa che necessita di un sacco di competenze. A partire da cosa fa la tua applicazione, ma poi anche da far sì che l'applicazione prenda dei dati in qualche modo, li elabori e poi li presenta l'utente in qualche altro modo. Ecco, non è pensabile che un sviluppatore singolo possa sapere tutte queste cose qui. I sistemi operativi sono abbastanza buoni nel senso che ti danno a disposizione un sacco di feature che ti consentono di far sì che tu ti occupi solo di alcune parti del codice e ti possa andare bene anche i valori di default, i comportamenti di base di altre parti del codice, però in alcuni casi hai bisogno di andare un pochettino più a fondo e spesso e volentieri dal programmatore sviluppatore singolo cosa fai? Vedi se qualcun altro ha fatto la stessa cosa prima di te e magari ha messo a disposizione la libreria il suo codice in maniera open source oppure come dire oh sta roba si fa così per cui a un certo punto visto che non è che puoi occuparti di ogni singolo pixel della tua applicazione cioè vuoi che ti occuparti del quadro generale del disegno generale ma di andare nei dettagli non lo fai allora cominci ad accumulare delle dipendenze le dipendenze sono essenzialmente qualcun altro che ha fatto qualcosa e tu vuoi sfruttare questo qualcosa che ha fatto qualcun altro e questo qualcun altro se è uno sviluppatore più o meno piccolo magari può creare delle applicazioni dei framework anche piccoli se a volte hai bisogno di utilizzare dei framework molto grossi adesso mi viene in mente per fare le statistiche di utilizzo da parte di Google e lì allora cominciano a volare i megabyte e i gigabyte occupati dall'applicazione che diventa effettivamente un mostro infernale adesso senza andarli a scomodare i giganti del controllo quale potrebbe essere Google ma anche Instabug per dire che è un sistema di gestione e di tracking degli errori in modo tale da capire dove le applicazioni si pianta e avere una sorta di reporting io ho scritto un'applicazione tra le tante cose che fa questa applicazione è convertere i file audio in mp3 uno potrebbe dire vabbè la cosa basilare no in realtà su iOS e su macOS convertire in mp3 è un casino perché non lo fa il sistema operativo di suo perché Apple ha deciso che non voleva pagare delle royalties e a questo punto non si può convertire un file audio wav in mp3 e allora di conseguenza io faccio uso di un'altra libreria e questa libreria fa uso di un'altra libreria perché io volessi solo fare l'Mp3 ma questa libreria invece permette di fare qualsiasi cosa e di conseguenza alla fin fine la mia applicazione raddoppia lo spazio occupato solo per questa micro feature qui perché non c'è la possibilità di agire in maniera chirurgica ma bisogna prendersi dietro tutto quanto e questo è solo un piccolo esempio della cosa immaginiamo di voler gestire i file pdf ovvio tutte le cose sono gestibili scrivendosene da zero però a volte diventa veramente complicato e di conseguenza le dipendenze cominciano a incrementare diventare sempre più sempre più ciccio se magari avete un'applicazione che volete che disegni dei grafici degli histogrammi potete benissimo scrivervi da solo da soli il framework per disegnare gli histogrammi però se trovate una cosa già pronta lo sviluppatore dice usatela fate quello che volete non c'è nessun problema al massimo mi dite grazie mi offrite un caffè con paypal e tu che dici perdi due tre settimane a fare questa roba qui oppure prendi la roba già pronta e il tuo unico sbattimento è capire come comunicare con questa roba già pronta spesso e volentieri uno comunica cerca di capire come comunicare con questa cosa già pronta anche perché viva Dio se lo sviluppatore se l'applicazione in sé funziona abbastanza bene se il framework in sé è ben manutenuto vuol dire che c'è qualcun altro che si occupa di quella roba lì e noi siamo tutti contenti e di conseguenza alla fine le applicazioni occupano un sacco di spazio per tutte queste dipendenze eccetera 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 poi adesso invece posto a questa cosa che è una cosa un po' più ingegneristica un po' più globale invece adesso vi voglio raccontare qual è la mia esperienza come persona che sviluppa applicazioni che spesso e volentieri sono anche piuttosto intense dal punto di vista dei calcoli dell'elaborazione e come si ovvia dal punto di vista delle performance la maggior parte dell'applicazione che ho scritto come ho detto lavora essenzialmente su macOS però ne ho fatte un paio due o tre che lavorano anche su iOS e in questi casi ho avuto dei problemi di performance perché magari inizialmente non ero molto bravo a sviluppare per cui facevo un sacco di cose in più di overhead in alcuni casi invece i dati sono complessi e devo trovare il modo di ottimizzare le ottimizzazioni sono i due tipi su iOS essenzialmente uno è dal punto di vista computazionale nel senso cerchiamo di far fare il computer a questo computer portatile meno roba possibile perché più glielo fai fare più scalda più consuma batteria e più consumi batteria più la gente ti vuole male e la seconda ed è secondo me ancora più importante la parte dell'occupazione della memoria questi device hanno molto in comune con macOS iOS ha molto in comune con macOS tranne la gestione della memoria il macOS è abbastanza trasparente per l'utente richiedere memoria infinita perché lo swapping su disco viene fatto in maniera automatica in pratica io potrei dichiarare ho bisogno di uno spazio di memoria di 10 gigabyte il sistema operativo ha 8 gigabyte in RAM tra cui in questi 8 gigabyte devi farci girare il tuo sistema operativo e tutte le app aperte e magari tu hai a disposizione per la tua fetta un gigabyte però il sistema operativo ti dice non ti preoccupare ci penso io e si occupa lui di gestire questa memoria virtuale sul disco su iOS questo ramo non esiste cioè in pratica non c'è la possibilità di fare swapping e le applicazioni sono violentemente castrate come dire se vuoi fare swapping te lo devi gestire tu da solo per cui il tuo scopo come sviluppatore è occupare quanta meno memoria possibile perché non ci sei solo tu ci sei operativo ci sono un sacco di cose e non appena la tua app comunque richiede un po' di memoria ti caccio fuori a pedate dalle applicazioni che sono in esecuzione per cui per me la cosa più difficile per iOS è l'impatto sulla memoria uno potrebbe dire ma che cacchio ci devi fare con la memoria che bisogna di tanto spazio per esempio fare elaborazione audio elaborazione audio vuol dire che un file di un minuto occupa su disco qualcosa come 10 megabyte in memoria ne occupa 20 perché magari fai delle elaborazioni in virgola mobile e questo per un minuto se i minuti sono 10 allora il file occupa 200 megabyte e se occupa un'ora sono 1200 megabyte 1 giga e 2 per cui già non puoi più fare queste cose o utilizzi le librerie del sistema operativo che fanno delle elaborazioni di loro oppure se vuoi proprio fare delle cose a modo tuo in maniera molto originale per certi versi praticamente devi prendere questo file spezzettartelo e lavorare un pezzettino alla volta ed è molto complicato ed è inizialmente poi quando uno sviluppa un'applicazione dice sai che c'è facciamo che questa roba la facciamo funzionare vediamo se questo algoritmo funziona e poi eventualmente ottimizziamo questo ha anche un senso perché spesso volentieri in ambito informatico si parla di premature optimization che è fondamentalmente ottimizzazione prematura che è una presa per il culo di un'altra cosa che è prematuro che di solito è un po' piacevole per noi maschietti perché come dire non stagli ad ottimizzare al massimo prima capisci se sta funziona poi se funziona vedi un pochettino come gestirti l'ottimizzazione anche perché effettivamente questi device mobili gli iphone sono sempre più potenti sono delle iene come dicevi anche tu Francesco hanno una potenza di elaborazione talmente elevata che mettersi a ottimizzare a volte è anche uno spreco di risorse magari per dire io ottimizzare il 10% di tempo di CPU mi prende 10 giorni se si vuole se va tutto bene e poi questo 10% risulta essere un decimo di secondo per un'elaborazione di un secondo magari spesso volentieri potrebbe anche essere superfluo io devo dire che l'ottimizzazione dal punto di vista dell'interfaccia cioè dei processi che interagiscono con l'interfaccia è importante perché se no si perde di fluidità però spesso volentieri uno dice vabbè ma sti grandi cazzi cioè anche perché poi uno può dire io sono uno sviluppatore il mio modello di business mi porta ad avere un'applicazione che ha una certa fama ha un certo successo vengo ripagato in qualche modo da questo sforzo che faccio allora lo faccio però magari come nel mio caso lo sviluppatore lo fa di secondo lavoro e dice sai che c'è non c'ho tempo non c'ho sbatti per fare sta roba qui bene come vorrei cioè mi piacerebbe dover dedicare le risorse vuol dire che avrei un pubblico sufficientemente ampio per poterlo fare in certi casi non ce l'ho per cui mi tengo queste cose particolarmente non ottimizzate e lo so che non è un bello discorso però il bel discorso sarebbe avere le risorse per farle se le risorse non ci sono dico sempre a Francesco ma lo dico anche a me stesso raccuglia cioè ti devi portare a casa i soldi del mutuo dopo quando ne hai abbastanza per il mutuo per la spesa per le bollette eccetera eccetera se ti avanza qualcosa magari sì però prima c'è tutto il resto beh immagino di essermi dilungato veramente tanto e ti chiedo scusa Francesco e chiedo scusa anche ai tuoi ascoltatori però ci tenevo a raccontarti il mio punto di vista e tra l'altro questo punto di vista non è in contrasto con quello che hai detto tu io sono essenzialmente d'accordo con tutte le considerazioni che hai fatto che hai dato anche perché spesso e volentieri tu non quando ti rivolgi a pubblico di programmatori gli dici non state ottimizzando abbastanza o anche a chi sviluppa i telefoni stessi non state ottimizzando abbastanza si tratta di grandi megacorporation e-corp che hanno al soldo centinaia di migliaia di persone sia interne che esterne hanno capannoni di sviluppatori per cui si potrebbe anche pensare di pensare a un'ottimizzazione migliore la realtà è che nel mondo oggi il motto della Silicon Valley e non ti sto a dire chi l'ha tirato fuori anche se credo che tu lo conosca benissimo è muoviti in fretta rompi cose vai spacca il mondo dove spacca il mondo non è fai qualcosa di innovativo ma rompi qualcosa e che per la serie pensa all'oggi per le conseguenze ci penserà qualcun altro questi grandissimi cazzi ci penseranno gli angel investor o quelli che subentreranno nella tua exit vabbè questo è un discorso che già ci ha portato sempre troppo lontano allora a questo punto io ti ringrazio dell'opportunità che mi hai dato di raccontare il mio punto di vista spero di essere stato esauriente ed esaustivo insomma spero di aver risposto se hai bisogno di ulteriori chiarimenti non hai che da chiedere a questo punto approfitto dell'occasione per salutare i tuoi teleascoltatori a questo punto anzi no facciamo una cosa faccio anche un po' di autoboblicità se volete vedere le cose che sviluppo male come avete sentito fino adesso mi trovate su ulti.media è un dominio fighissimo il punto media per cui andate su ulti.media che è la mia piccolissima software house dove vedete che cosa sto programmando in questi giorni grazie un abbraccio a tutti quanti ciao direi che non c'è altro da aggiungere Alex sei stato praticamente perfetto vi lascio nelle note dell'episodio il link al suo podcast così che possiate andare a iscrivervi e ad ascoltare tutte le altre sue puntate per scoprire come si pensa produce realizza e vende un programma con tutti i problemi e le gioie che ci sono nel mezzo pillole di beat è un podcast indipendente interamente scritto prodotto e realizzato da Francesco Tucci con l'indispensabile supporto dell'hosting Ferdai e il software di montaggio audio producer di Alex Racuglia lo potete ascoltare da tutte le piattaforme di podcast il lunedì o direttamente sul sito pillole di beat col punto prima del lit sul sito trovate anche tutti i canali social per la discussione online e i modi per supportarmi il podcast non ha pubblicità per chi dona più di 5 euro e mi comunica l'indirizzo gli spedisco gli adesivi un modo altrettanto bello di contribuire è parlare di questo podcast con amici colleghi e parenti ascoltare podcast è facile per chiunque pillole di beat e anche un piccolo network su extra punto pillole di beat col punto prima del lit ci sono tutti gli altri podcast se vi serve una consulenza tecnica e informatica fatturata su iltucci.com slash consulenza trovate tutte le informazioni immaginate che un giorno vi arrestino perché qualcuno ha detto che eravate in una stanza dalla quale si presuppone sia partito un colpo di pistola perché sul davanzale della finestra è stata trovata una sola particella che potrebbe essere polvere da sparo e voi non avete un alibi per questo finite in galera non è un racconto di fantasia se volete saperne di più vi consiglio caldamente le 8 puntate del podcast polvere di chiara lalli e cecilia sala sul caso marta russo il link come al solito nelle notte dell'episodio ma se ascoltate il podcast da un app per podcast lo cercate e nell'app ce lo trovate di sicuro bene avete ascoltato pillole di beat questa era la puntata 210 e io sono francesco anche se la voce di oggi è stata quella di alex raccuglia vi do appuntamento al prossimo episodio tra una settimana sempre il lunedì dalle 4 del mattino nelle vostre app di podcast preferite ciao